Bene, ringraziamo chi ha introdotto il dibattito aperto sia ai coraggiosi sopravvissuti alla giornata di ieri, sia al neo-entri. In questo momento io ho tre interventi preordinati che sono stati annunciati, il primo di questi è appannaggio di chi voglia rappresentare un'importante società privata di produzione informatica, di Bologna, che noi ringraziamo perché ha sostenuto come sponsor queste due giornate, Noema Life, chi prende la parola per conto di Noema Life, il dottor Alessandro Falcini, prego. In linea di massima gli interventi dovrebbero essere contenuti nell'ordine di dieci minuti. Non so se questo funziona. Mi sentite? Sì, ecco qua. Buongiorno, allora come ha introdotto il presidente la nostra azienda Noema Life è un'azienda di Bologna che ha una presenza molto importante in Italia con una decina di uffici e che negli ultimi anni si è mossa anche in alcuni mercati esteri, innanzitutto in Francia dove abbiamo una presenza con circa 200 colleghi, frutto in realtà di una iniziale acquisizione e poi fusione dell'azienda e nel Regno Unito e in alcuni paesi del Latin America soprattutto, poi al di là dei colori. Noema Life sviluppa software per le aziende ospedaliere e le aziende sanitarie locali, diciamo tradizionalmente le ASL. Sviluppiamo software per la parte dei dipartimentali, quindi laboratori analisi, anatomia patologica eccetera e poi negli anni abbiamo costruito un'esperienza su quello che è il mondo delle MR, quindi della parte clinica, quindi dal pronto soccorso alle cartelle cliniche e quant'altro. Allora, che cosa ci porta a essere oggi interessati a questo convegno con CUP 2000 e con tutti gli altri correlatori? Il fatto che ci siamo messi in testa di fare un gradino evolutivo rispetto a quello che è un portafoglio di offerta classico. Adesso, al di là dell'animazione, il mercato nel quale noi ci muoviamo sostanzialmente, voi lo sapete, è caratterizzato da una grande frammentazione delle soluzioni. Sto parlando della periferia, va bene? Quindi l'altra faccia della stessa medaglia, dove al centro c'è sole, per fare l'esempio dell'Emilia Romagna, ma poi ci sono tutte le aziende sanitarie che oggi hanno una informatizzazione frammentata. Questa frammentazione che cosa porta? Porta a una replicazione del dato, porta a una replicazione della gestione del dato. Certe cose le dobbiamo fare più volte in più punti. Questo di per sé è un limite all'interoperabilità. Abbiamo visto che sul mercato tanto è stato fatto in termini di standard e di integrazione. Con l'HL7 ci siamo, voglio dire, ne abbiamo parlato forse nei passati dieci anni ogni giorno, ma in realtà abbiamo ancora un livello di interoperabilità medio-basso. Questa è la nazione nella quale pochi anni fa facevamo i flussi regionali con i file TXT. Poi abbiamo fatto le integrazioni con le anagrafie regionali, ma ancora oggi sono pochi casi nei quali c'è un'integrazione a servizi tra la periferia e il centro. Spesso perché magari il centro non è pronto, a volte dove il centro è più avanti vedi l'Emilia Romagna perché la periferia non è pronta per avere un dialogo così spinto in termini di dati. Allora in questo contesto noi riteniamo che la periferia debba evolvere i propri sistemi informativi. E quindi abbiamo investito, abbiamo fatto un progetto piuttosto importante per le dimensioni della nostra azienda, nel realizzare una piattaforma clinica a servizi. Questo adesso è un disegno sostanzialmente. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo deciso di ripartire dall'inizio. Abbiamo detto costruiamo un unico data model dove mettere le informazioni. Ci siamo ispirati a una serie di standard e quant'altro, da Open HR ad alcune raccomandazioni ISO. E lo abbiamo affiancato con alcuni temi architetturali, tra i quali sicuramente il tema delle terminologie. Che sono quei dizionari, quei periodi di validità, quelle unità di misura, quelle codifiche internazionali che permettono di passare da quella che è un'interoperabilità tecnica, i messaggi HL7 che ci spediamo ogni giorno, a un'interoperabilità semantica, nella quale chi dà e chi riceve conosce il contesto di riferimento di quella informazione. E quindi si possono avere dei punti di gestione unificati e ridurre quindi la complessità del sistema. Insieme a queste entità abbiamo affiancato, lo vedete sempre nel riquadro arancione, questi quadretti senza la colorazione centrale, una serie di servizi di back end che noi stessi utilizziamo all'interno di una piattaforma modulare, ma che possono essere utili anche per altri fornitori. Oggi e anche nella giornata di ieri abbiamo sentito la possibilità di avere app che facciano utilizzo delle informazioni sul territorio per essere vicini ai cittadini e quant'altro. Certamente dobbiamo elevare il punto nel quale le cose le facciamo una volta sola, perché se io mi immagino che ogni start up si deve preoccupare della gestione della privacy, chiaramente no, avremo migliaia di giornate e uomo ogni mese che tutte le aziende investono ogni volta che c'è un cambiamento nel regolamento della privacy. E quindi abbiamo lavorato per avere dei gestori a servizi che possono fornire questo tipo di funzionalità a Noema Life per la propria roadmap di sviluppi, ma anche a entità terze. Giusto per rimanere all'interno di quelli che sono i 10 minuti, abbiamo portato anche un primo esempio di quello che abbiamo realizzato in seno in realtà a un progetto del MIUR, quindi ancora una volta temi relativi alla ricerca, e ci siamo preoccupati di caricare su questa piattaforma tutta una serie di informazioni relativi ai pazienti nefropatici, che in due parole sostanzialmente consta nell'identificare la popolazione al rischio di quella che è la malattia renale cronica, quindi sono quei malati che prima sono asintomatici e poi li scopriamo nel momento in cui sono alle porte della dialisi, che sapete che cos'è le poltrone per il ricircolo del sangue. Che cosa succede? Che in realtà è possibile stadiare la popolazione in 5 livelli e il 3A e il 3B sono persone che hanno già un'insufficienza renale cronica, ma è asintomatica, quindi la possiamo scoprire solo facendo un esame ad hoc, o in realtà l'accademia ci dice utilizzando le informazioni che abbiamo già. Quindi noi abbiamo visti anche i numeri in gioco, stiamo parlando di quasi il 10% della popolazione italiana, abbiamo preso i dati del Policlinico di Bari, che era il nostro ente sperimentatore in questo bando MIUR, abbiamo incrociato i dati di laboratorio con i dati delle MR, quindi delle cartelle cliniche e quant'altro, e abbiamo fatto una stadiazione della popolazione. In questa maniera è la nefrologia del Policlinico, è la direzione del Policlinico che conosce quali sono questi pazienti a rischio. Quindi che cosa succede? Succede che adesso stiamo inviando, quindi ancora qui torniamo verso l'app, le informazioni dal centro verso la periferia, con delle notifiche, per dire ai medici di base, guarda nei tuoi assistiti ce ne sono 10 che sono a rischio perché hanno già una capacità renale compromessa. Questo fa sì che, essendo il centro a chiamare su base scientifica le persone che con buona probabilità sono dei pazienti cronici, si inverte il paradigma. Oggi che cosa succede? Oggi il medico di base, di fronte alle lamentele del proprio assistito, e a volte senza avere per forza di cose la stessa conoscenza che può avere il nefrologo del Policlinico Universitario, chiaramente, invia delle persone in nefrologia, e quindi c'è un'alta incidenza di falsi positivi. Quindi abbiamo la nefrologia piena, però abbiamo una cura che non è appropriata. Diversamente, invertendo il paradigma, quindi facendo utilizzo di tutti questi dati, può essere il centro che a fronte di informazioni validate può andare a chiamare la periferia e abbiamo maggiore appropriatezza delle cure e soprattutto abbiamo maggiore tempestività. Chiamare una persona in uno stadio 3A o 3B e dargli dei farmaci o modificare la propria dieta alimentare vuol dire rallentare di molto il decorso della patologia e quindi l'evento avverso di entrare in dialisi può essere rimandato di molti anni con risparmi per la salute del cittadino, per il suo stile di vita e per la sanità. Per questo, il mese scorso, la School of Management del Politecnico di Milano tra l'altro ci ha, diciamo, insegnito, noi e il Policlinico di Bari, del premio Innovazione Sanità Digitale. Grazie. Grazie. Secondo intervento previsto è del professor Roberto Dandi dell'Università LUIS. Grazie. Buongiorno a tutti. Io lavoro come sono stato introdotto alla LUIS nell'area pubblica amministrazione e sanità e come tale mi sono occupato di e-health tra l'altro saluto il dottor Moruzzi con cui abbiamo collaborato per un corso Mythos e Teresa con cui ho collaborato in questo progetto di cui vi parlerò brevemente. Sul titolo del convegno ho cercato di riflettere un po' che cosa dice la letteratura sulla readiness, su come essere pronti all'e-health. cioè le domande sono come facciamo a valutare la nostra capacità di essere pronti, quali sono le sfide che dobbiamo affrontare per essere pronti, come possiamo fare questo cambiamento. La letteratura mi fa piacere che nella giornata di ieri, io non c'ero purtroppo, però mi sono appuntato le sintesi che sono state fatte, mi fa piacere vedere che uno degli aspetti fondamentali è la governance. Io come scienziato sociale mi occupo soprattutto di questo, di management e effettivamente la letteratura già da tempo ha riconosciuto che gli aspetti economici, organizzativi e comportamentali sono molto più importanti rispetto agli aspetti meramente tecnici. Questo è uno dei primi che l'ho applicato al contesto della telemedicina, un altro studio famoso ha riportato vari fattori, varie dimensioni da tenere sott'occhio quando si sviluppa la telemedicina, quindi aspetti non solo tecnologici ma di accettazione da parte degli stakeholder, aspetti finanziari, organizzativi e di policy. C'è una letteratura immensa su questo argomento, ci sono vari modelli di readiness, modelli di maturità, a volte chiamati, tutti quanti fanno la loro lista di dimensioni socio, politico, organizzativo, manageriali da tenere sott'occhio oltre le considerazioni tecnologiche. Questo è il modello HIMSS, che sicuramente conoscete già, che fa vedere un po', diciamo, lega la readiness rispetto al grado di digitalizzazione dentro un ospedale. Questo è un'applicazione di health technology assessment alla telemedicina, derivante da un progetto europeo, dove anche loro in questo progetto hanno identificato, come vedete, una serie di fattori non tecnici. Questo è un altro famoso progetto europeo, Momentum, che ha incrociato, diciamo, gli aspetti della letteratura che abbiamo visto fino adesso, quindi strategia, organizzazione, aspetti legali, tecnologia, con il contesto, le persone, il piano e la messa in opera. E quindi ha analizzato diversi casi di studio, ha identificato una serie di fattori critici di successo per qualsiasi progetto di e-health. In questo programma in cui la LUIS è stata coinvolta, insieme con CUP2000, insieme con tanti altri esperti del settore, circa 3.000 partner, 300 organizzazioni, credo 300 circa regioni europee, si sono riunite per diversi mesi e anni per studiare come rendere possibile, rendere pronte le regioni che sono invece più indietro su questi aspetti. Noi ci siamo focalizzati soprattutto sull'integrated care, come arrivare all'integrazione delle cure, dell'assistenza, anche attraverso l'e-health. Per farla breve, abbiamo quindi non soltanto visto la letteratura, ma abbiamo intervistato una dozzina di regioni, che cosa hanno fatto, quali sono state le difficoltà, quali sono i loro piani futuri, e da questo è uscito fuori un modello che stiamo cercando di diffondere a livello europeo per capire la prontezza, la readiness delle regioni, quindi stiamo a livello regionale, non a livello organizzativo, le regioni europee come sono messe dal punto di vista dell'integrazione e anche attraverso l'information technology. L'idea è quella di capire, non fare un ranking delle regioni, non fare i bravi contro i cattivi, ma capire su quali dimensioni ogni regione ha una best practice e su quali dimensioni ha una worst practice, in modo tale da capire come fare il matchmaking tra regioni brave su un aspetto e regioni che devono migliorare. Il modello, essenzialmente, quindi basato su queste interviste, su queste analisi che abbiamo svolto, ha tirato fuori queste dimensioni, essenzialmente, che sono dimensioni per la maggior parte coerenti con la letteratura che vi ho brevemente illustrato e che abbiamo declinato in un toolkit per una facile valutazione delle regioni. Quindi c'è un questionario che si basa su queste dimensioni, identifica gli obiettivi di queste dimensioni, gli indicatori possibili che si possono monitorare e una valutazione, una self-assessment delle regioni su queste tematiche. Il risultato è un radar, una visione sintetica che un po' richiama, diciamo, un prodromo del sogno che diceva il dottor Moruzzi di un fascicolo sanitario europeo, forse, perché si comincia a pensare a un'integrazione, a una standardizzazione delle diverse esperienze per capire come fare a portare tutti verso la stessa direzione. Quindi, diciamo, è uno strumento semplice, è uno strumento che facilita appunto lo scambio di conoscenza a livello europeo e già è stato, diciamo, premiato questo sforzo con un progetto finanziato da Razio 2020 che si chiama Scirocco e che sta portando avanti ancora di più questo percorso. Bene, grazie, grazie molte. Per gli ospiti non italiani sottolineo che la sigla MIUR significa Ministero dell'Istruzione dell'Università della Ricerca. Chiamo ad intervenire il dottor Sbrogliavacca della società Insiel operante nella regione autonoma Friuli-Venezia-Giulia. Buongiorno. Buongiorno. Benvenuto. Grazie. Buongiorno, buongiorno a tutti. Beh, nella nostra regione quello che io posso portare come testimonianza è in atto una trasformazione molto forte del sistema sanitario. c'è una legge dello scorso anno che sta portando delle sostanziali modifiche a tutto il modo di fare sanità nella nostra regione. In particolare questa legge ha un aspetto innovativo cita all'interno del suo articolato proprio l'aspetto relativo ai processi del sistema informativo. che è una cosa abbastanza nuova per una legge diciamo di sanità regionale e fonda il suo aspetto innovativo sui concetti di trasparenza e di possibilità per il cittadino di essere sempre informato e poter sempre accedere ai propri dati sanitari. quindi al di là della trasformazione poi territoriale delle aziende che vanno a modificare sostanzialmente i loro asset proprio perché questa legge porta a una grande integrazione fra l'ospedale e il territorio stanno nascendo quelle che in Florencia Giulia si chiamano le AFT i centri di primo intervento dove oltre i medici in medicina generale in associazione man mano si potrebbero soffurire di servizi tipici dell'ambiente ospedaliero però decentrati sul territorio. Bene in questo panorama però tutta la parte diciamo tecnologica sta avendo una forte evoluzione su due direttrici fondamentalmente quella che possiamo chiamare del back del back office quella del sistema dell'internal diciamo che è poco conosciuta e poco visibile al cittadino al paziente e quella invece ben più visibile al paziente che è quella dei servizi. È chiaro che con una trasformazione così forte in atto nella nostra regione quello che è stato chiesto in particolare alla società in Siel che è l'in-house della regione è stato chiesto di parallelamente all'azione forte sulla ristrutturazione del sistema informativo sanitario ripeto poco visibile per per il cittadino implementare dei servizi rapidamente dei servizi attraverso i quali il cittadino possa accedere alle proprie informazioni e essere parte attiva nei vari processi che afferiscono sostanzialmente ai propri dati sanitari quindi tralasciando l'aspetto interno della trasformazione del sistema informativo che cosa si vede oggi in Fiori, Venezia e Giulia nell'arco degli ultimi sei mesi sono stati attivati dei servizi che afferiscono all'area del fascicolo sanitario sul quale c'è una roadmap che vedrà la vera e propria nascita del fascicolo anche se di servizi di fascicolo già esistono nel nostro contesto ma la vera e propria nascita del fascicolo elettronico del Fiori, Venezia e Giulia vedrà la sua data al punto di nascita il primo settembre di quest'anno quali servizi esistono già? Esistono dei servizi attraverso i quali il cittadino può già prenotare le proprie prestazioni online inizialmente eravamo partiti con un servizio riguardante i tempi di attesa quindi si poteva accedere e verificare con i tempi di attesa questo si è trasformato poi in un vero e proprio servizio di prenotazione online diretta che abbiamo visto molto gradito da parte dei cittadini e consente di sgravare anche le tipiche attività da CUP diciamo che cosa succederà il primo settembre succederà che con l'avvio della dematerializzata il cittadino non si dovrà neanche preoccupare più di indicare qual è la prestazione che deve ottenere ma questa sarà la sua negoziazione riguarderà solamente il dove il quando poter avere questa prestazione un altro servizio molto importante che ha dato di pari passo con l'istituzione in back dei cosiddetti laboratori di area vasta ce ne sono tre nella nostra regione Pordenone, Udine e Trieste e la possibilità di accedere direttamente online ai propri referti questa cosa in questo momento è già attiva sul laboratorio di area vasta di Udine quindi la parte più grossa diciamo della nostra regione cioè la provincia di Udine sostanzialmente come territorio e quindi è un altro servizio che si aggiunge e che dà la tangibilità poi della trasformazione del cittadino di quando sta avvenendo appunto nella sanità regionale i prossimi passi come dicevo sono quelli della dematerializzata specialistica che è già parzialmente iniziata ma che vedrà poi la luce definitivamente come dicevo prima in contemporanea col fascicolo il primo settembre perché lì avverrà un'ulteriore trasformazione la possibilità di prenotare la propria prestazione avverrà a valle dell'impegnativa digitale da parte del medico di medicina generale e quindi l'accesso a queste informazioni non sarà più l'accesso a un servizio ma sarà direttamente l'accesso al proprio fascicolo all'interno del quale potranno essere poi sviluppate le operazioni sì di prenotazione ma anche tutte le altre operazioni che possono essere utili per il trattamento dei propri dati sanitari grazie mille grazie due brevissime sottolineature prima di procedere ulteriormente al dibattito la prima per i nostri ospiti non italiani ma credo anche per qualcuno di quelli che italiani sono quando si parla di società in house si intendono quelle società a totale capitale pubblico con soci totalmente pubblici pur essendo società per azioni società quindi riconosciute da cosa civile che possono operare prevalentemente solo per i propri soci quindi sviluppano la propria attività all'interno del contesto istituzionale che è disegnato dalla compagine dei soci che costituiscono l'assemblea della società seconda sottolineatura è che la regione Friuli Venezia Giulia e la sua società in house saranno verosimilmente a breve delle new entry nella network che ha dato vita a questo convegno a queste due giornate di riflessione di studio a testimonianza del fatto che inizialmente l'Emilia Romagna con società CUP 2000 e il Friuli Venezia Giulia il Trettino Alto Adige con la sua società in house hanno come dire costituito un avamposto dietro al quale però si stanno sviluppando interessi di allargamento delle esperienze che fanno bene sperare per il futuro ha chiesto di intervenire il dottor Luca Save della società Deep Blue prego in questo dibattito aperto come vede gli interventi non sono precostituiti nel contenuto quindi ognuno sviluppa le proprie considerazioni come meglio crede per fare prima mi collego qui però ve la lascerò buongiorno non so se è acceso a microfono mi sentite? mi sentite? ok l'avevo spento buongiorno innanzitutto mi presento appunto sono di questa società che si chiama Deep Blue è una piccola azienda siamo circa una trentina di persone operanti soprattutto nel settore dell'aviazione del controllo del traffico aereo facciamo consulenza e ricerca e lavoriamo molto diciamo con la progettazione europea e adesso con il programma Horizon 2020 in settori come IT transport e la diciamo la prospettiva che vi volevo proporre con questa presentazione è un po' fuori contesto in particolare perché ieri non ero presente non ho potuto essere presente e me ne è rammarico perché ho visto che gli interventi erano molto interessanti la prospettiva è quella della diciamo visione della progettazione user centered che appunto con il mercato consumer negli anni più recenti appunto è stata applicata a tutti gli ambiti che ha una storia più più vecchia nel settore industriale dove assumeva altre denominazioni per esempio human factors fattori umani ergonomia ergonomia cognitiva ecco noi ci occupiamo di questi aspetti qui questa presentazione sarà breve e diciamo è per avere fornire alcuni spunti di riflessione su come le cose che facciamo noi in aviazione potrebbero essere applicabili a questo settore che è quello in cui operate voi e quindi vi dicevo il mio background sostanzialmente è quello di una persona che ha esperienza nel settore della safety e degli fattori umani in aviazione anche se ci occupiamo anche di altri domini e non so che familiarità abbiate con il termine human factors sostanzialmente l'aspetto human factors si occupa di comprendere le interazioni fra gli operatori umani e gli altri elementi di un sistema sociotecnico e di rendere le tecnologie e le procedure usabili ed intuitive per gli operatori che è un tema che ha un impatto molto forte sull'argomento di questo workshop nel settore nostro chiaramente gli obiettivi sono cercare di ridurre a quanto più possibile il fenomeno dell'errore umano immaginate il lavoro del controllore del traffico aereo o del pilota e avere un impatto positivo sulla safety sulla sicurezza e sulle performance che si hanno in questo settore una cosa che noi riscontriamo in questo settore ma che chiaramente si applica piuttosto bene anche all'ambito sanitario e all'ambito e-health di cui vi occupate è il fatto che la tecnologia di per sé non è mai la panacea in quanto tale naturalmente ci fornisce molte opportunità ma può essere rischioso quando viene introdotta in modo non sufficientemente integrato diciamo così e spesso quello che si osserva è che i benefici non sono immediati è necessario sempre una fase di assestamento che diciamo facilmente riscontra bene gli interventi che ho ascoltato anche stamattina e la vera difficoltà attraverso la tecnologia è sostenere i processi con il cambiamento tecnologico quindi i processi che effettivamente devono essere svolti non semplicemente introdurre una tecnologia in quanto tale giusto uno spunto di riflessione che viene appunto dal mondo dell'aviazione un grafico che fa un po' spavento ma che viene da un report della Airbus che ha fatto un'analisi statistica degli incidenti diciamo a partire dagli anni 60 fino agli anni più recenti fino al 2014 che mostra che in corrispondenza dell'introduzione di quelle che si possono definire diverse generazioni dell'aviazione quindi first generation second generation third generation corrispondono proprio a delle sorte di salti tecnologici che vengono fatti nell'aviazione c'è un iniziale aumento dell'incidentalità a cui dopo corrisponde una graduale discesa è comunque un beneficio che quella tecnologia porta ma che non è immediato ora non so se sia possibile tracciare un'analogia così diretta in ambito e health che appunto non è il settore in cui noi operiamo lo dichiariamo e quindi proviamo a affrontare questo argomento da un punto di vista diciamo aneddotico per esempio con l'osservazione dell'ambito statunitense americano in cui soprattutto con l'amministrazione Obama c'è stato un forte incremento dei servizi di health e in particolare appunto della cartella clinica elettronica la statistica che riprendiamo da questo rapporto dice che l'incidenza di questi servizi negli ospedali americani era del 9,4% nel 2008 e adesso arriva addirittura al 75% quindi quello che è interessante capire è se questa cosa ha avuto un impatto positivo sempre ragionando in modo aneddotico diciamo si possono osservare dei casi di cattivo funzionamento prendendo spunti da riviste ad esempio i casi in cui per effettuare anche un processo una procedura molto semplice come un ricovero di un paziente che presenta diciamo che manifesta un dolore addominale diciamo questa è stata fatta un'osservazione in questo articolo in cui l'operatore addirittura aveva dovuto erano stati contati fino a 227 clic per portare a termine questa procedura oppure l'osservazione dei medici di pronto soccorso che impiegano talmente tanto tempo all'utilizzare la cartella clinica elettronica fino all'osservazione dei medici di pronto soccorso che spendono il 44% del loro tempo al computer e il fatto che spesso vengono presentate informazioni rilevanti in primo piano e magari quelle più importanti per quell'operatore si presentano più nascosti oppure altri spunti questo libro che probabilmente conoscerete di questo medico che ha studiato sempre casi di disfunzioni creati dall'intervento della digitalizzazione in sanità negli Stati Uniti non avversandolo appunto ma mettendolo in evidenza le situazioni di disfunzione e questo diciamo era uno degli episodi che vengono riportati di un incidente piuttosto grave dovuto a un caso di somministrazione di un antibiotico in un dosaggio spropositato a un particolare a un bambino in questo caso in cui si verifica quello che è conosciuto diciamo dagli esperti di user-centered design come l'errore di modo l'errore di modo è quello come quando utilizziamo il caps lock il tasto per fare tutte le maiuscole ma non non ci accorgiamo che è premuto e quindi ci vengono le lettere maiuscole magari sbagliamo a inserire una password in questo caso l'errore di modo in una complessa rete di interazione fra farmacista medico prescrittore paziente fa sì che il dosaggio del farmaco venga dato in modo addirittura spropositato quindi normalmente un dosaggio 38 volte superiore a quello che normalmente il paziente dovrebbe prendere perché in realtà il dosaggio nella sistema che stava utilizzando questo pediatra era in milligrammi per chilo ma esisteva anche l'altra modalità che era direttamente in milligrammi e siccome il pediatra non si era accorto che l'impostazione era in milligrammi per chilo il sistema ha moltiplicato per il peso del bambino che era appunto di 40 kg che effettivamente poi è deceduto quindi è un caso piuttosto triste però diciamo disfunzioni di questo tipo se ne sono osservate in molti casi e poi i classici problemi di interoperabilità che vi avevano citati prima quindi gli ospedali che non riescono a leggere dati che provengono da altri ospedali oppure proprio casi paradossali di inadeguata comprensione dei elementi di base del lavoro del medico come il sistema qui riprendendo sempre da un'altra rivista che chiede di rispondere tutte le volte al campo la persona è incinta o non è incinta anche per pazienti di sesso maschile oppure sistemi che palesemente contrastano con la prospettiva del medico perché magari sono stati progettati avendo in mente il workflow della fatturazione che è un'attività fondamentale anch'essa in sanità ma che è soltanto una delle prospettive magari ereditate da un altro mondo che una volta applicate che si applicate in modo troppo diretto poi a un lavoro di tipo diverso come quello del medico del paramedico dell'infermiere può portare a delle disfunzioni gravi ecco diciamo fatto questo brevissimo escursus aneddotico quale possono essere alcune considerazioni che noi deriviamo proprio dalla nostra esperienza di progettazione di analisi del lavoro in aviazione e nel controllo del traffico aereo quindi quale può essere un modo per adottare un'ottica user centered per noi sicuramente la cosa fondamentale è progettare sistemi per specifici utenti con specifici obiettivi in specifici contesti d'uso cioè già semplicemente spostarsi da un contesto d'uso ad un altro rende una soluzione tecnologica che magari appunto è anche piuttosto avanzata che è considerata di ottimo livello spostata in un altro contesto può essere risultare completamente inadeguata quindi questo è molto importante per guidare la progettazione l'aspetto dell'ottimizzazione delle interazioni fra gli elementi di un sistema appunto abbiamo parlato di sistema sociotecnico e quindi non concentrarsi solo sulla tecnologia da un lato o sull'operatore umano dall'altro ma studiare le interazioni che è una cosa che si fa molto in aviazione e analizzare i processi esistenti cui il lavoro come viene effettivamente fatto prima di intervenire con la soluzione tecnologica o magari fermandosi a riflettere su come la soluzione tecnologica è intervenuta sui processi esistenti e poi c'è l'altro tema molto complesso che è come tradurre dei needs degli utenti quindi i bisogni degli utenti in requisiti di progettazione quindi un tema che sicuramente tutti voi avete affrontato qui diciamo la riflessione molto breve è che bisogni e requisiti non sono assolutamente la stessa cosa cioè cercare di tradurre un bisogno di un utente direttamente in un requisito è un'operazione diciamo molto pericolosa e che il dialogo fra lo sviluppatore e progettista da un lato in tutte le sue diverse articolazioni ma per semplificare chiamiamolo lo sviluppatore e l'utente finale è un dialogo molto complesso prima di tutto perché lo sviluppatore non conosce le attività all'interno dei quali è inserito l'operatore specializzato appunto il medico il paramedico l'infermiere non è semplicemente una persona un operatore specializzato ma sta dentro a una serie di processi e di attività che sono molto peculiari e lo sviluppatore non può conoscere nel dettaglio le caratteristiche di questa attività tant'è vero che la classica cosa che noi ci chiamo sempre nella discussione fra sviluppatori dei sistemi per il controllo del traffico aereo magari e controllori dall'altro è quello di dire non basta dire cosa ti serve la domanda è più complessa è più articolata e l'utente soprattutto in contesti specialistici quindi non nel mercato consumer quello che appunto citiamo sempre quello delle app degli smartphone ha difficoltà ad esplicitare in modo analitico quegli stessi processi in cui lavora quando siamo molto specializzati in un determinato lavoro facciamo fatica a spiegarlo in modo analitico ad esplicitarlo a formalizzarlo agli altri quasi come quando scendiamo le scale scendiamo le scale di corsa una cosa che sappiamo fare benissimo e che facciamo da quando siamo piccoli se ci fermiamo a riflettere mentre stiamo scendendo le scale sui singoli passi che facciamo rischiamo di cadere proprio perché una cosa che si fa in modo così automatico basato su una forte esperienza non è facile da analizzare da scomporre analiticamente arrivo alla conclusione e da qui c'è la cosa dice ma io faccio prima a fartelo vedere che a spiegartelo quello è il mio lavoro questa è la classica cosa che si dice fino all'espressione alla frase che viene attribuita a Henry Ford se avessi chiesto alla gente cosa voleva mi avrebbero detto vogliamo dei cavalli più veloci ora e questo è veramente l'ultima slide il problema è che questa relazione fra bisogno degli utenti e requisiti tecnici non è una relazione così diretta perché perché da un lato i requisiti tecnici riguardano appunto le tecnologie abilitanti che abbiamo a disposizione che sono appannaggio dello sviluppatore progettista e dall'altro i bisogni dell'utente sono legati ai processi in cui questo utente è inserito e di solito si tratta di processi in cui sono coinvolti moltissimi operatori quindi c'è la prospettiva nel vostro caso del medico del paramedico dell'infermiere del farmacista del paziente abbiamo detto anche del cittadino non soltanto paziente o del responsabile amministrativo che tutti quanti partecipano condividono in alcuni casi uno stesso processo con prospettive completamente diverse e quindi questo dialogo fra le due parti in realtà è molto più frammentato più complesso ha bisogno di iterazioni non è così diretto la nostra diciamo il nostro approccio a questa cosa è il tipo di lavoro che facciamo noi è che c'è bisogno quindi di una mediazione fra questi due ambiti in questo caso noi diciamo lo facciamo dal punto di vista degli esperti di human factors o gli esperti di user experience che quindi mediano fra questi due lati naturalmente la cosa può essere interpretata in modo diverso ci possono essere progetti che magari non richiedono questo tipo di competenza ma è importante capire che non è diceva anche il professor Moruzzi in un intervento di qualche giorno fa anche affidare ai medici direttamente un progetto di health può essere un approccio quello che diciamo noi è anche però ci vuole anche o una figuratezza o comunque una figura che studia tutti e due gli aspetti ponendosi in una posizione intermedia ho concluso grazie a testimonianza di come aree in cui i contenuti operativi sono lontanissimi dal punto di vista dell'approccio metodologico possono trovare formule sinergiche estremamente interessanti bene abbiamo terminato gli interventi lì a di massima preordinati previsti e quindi si apre un dibattito aperto abbiamo circa 20 minuti 20-25 minuti ancora rispetto al programma pregherei coloro che vogliano intervenire di contenersi attorno ai 5-6 minuti in modo tale che ci possa essere un dibattito largo se ed in quanto vogliate promuoverlo pregando altresì chi interviene di presentarsi a questo punto perché non ho riferimenti preordinati prego siete molto timidi prego o qui o là in modo che il microfono aiuti salve io avrei una domanda per il professor Drews da ieri presentati mi chiamo Valentina Soluri lavoro per il CUP posso andare in inglese come vuoi I have a question for you from your presentation yesterday which I kept in mind you said that for the electronic card in Germany there were 800 million euros invested by insurance companies so I was wondering how did you manage to involve the insurance company in a healthcare project and how did you manage to consider the risk that it's like a kind it could be a conflict of interest with the data health data belonging to insurance company or somehow close to insurance company even if in an ideal world there should be nothing to hide but in reality a person could not one of the two entities be joined in this collection that's it thank you for your question so I think I need to go a little bit more into detail about the German healthcare system so these 100 it's about 130 at the moment health insurance companies are all enrolled in the compilatory healthcare system so what their task is defined by law actually and they invested the money for example for adapting their systems regarding the administrative data so as I mentioned yesterday one of the first applications that will now be used is the refreshment of the data that is stored on the card and this data or the primary data source for that are the insurance companies actually but they also spended money for compensating that the GPs they had to buy these new car terminals they have been developed and a part of the money was spent for that so until now it's not quite clear who will run the electronic health record or the electronic patient record actually so it is not expected that these will be run by the health insurance companies so they have to invest the money because they receive the money from the patients actually and the employers and then also their road is to spend the money and to invest it to get the systems running so actually they are an essential part of our healthcare system and all the money that has been invested for this project or large part will be spent by the health insurance companies so that's not a kind of conflict because it's the expected role we expect them to take in this game no no definitely not so the basic idea is that the data is only accessible with the card as the key so even if the data would be stored in the systems of the health insurance companies they wouldn't have access to that because they do not have the appropriate key that needs to be used to access the data but is work in progress and would be a pleasure if someone wanted to participate with me the presentation free to that web and and to can put the hand I can imagine a new model and I can imagine it for a context that is europe and that is african I have I have in hand the last book of the OXA of the few weeks ago the South Africa is the country which has the index of the Gini the highest al mondo è anche il paese dove la sanità costa di più alle tasche delle persone. Considerato che ha un reddito più o meno da paese BRICS, immaginate quanto sia difficile l'accesso ai servizi sanitari per chi non ha un portafoglio ben gonfio. Allora ho provato a pensare a cosa siamo abituati. Noi siamo abituati a quella che io definisco una medicina reattiva, cioè io devo avere un sintomo per andare dal medico, altrimenti non ci vado. Io devo avere una situazione particolare, altrimenti tendo a non rivolgermi alle istituzioni sia pubbliche che private, in particolare a quelle private, perché ogni volta che vado dal medico loro se lo ricordano bene e me lo fanno notare l'anno dopo quando devo pagare un premio. Per cui in realtà tutte le strutture, che siano pubbliche o private al mondo, poi fanno un'analisi dei miei dati, li mettono insieme agli altri, ma continuano tutti a trattarmi come Miss o Mr. Averidge, il signor media. Sono già in grado di individuare dei fattori di rischio, ma questi fattori di rischio li usano tutto sommato per fini loro, non per fini miei, per la mia salute. Quella che io chiamo la medicina reattiva sta diventando insostenibile, sia che sia un sistema pubblico sia che sia un sistema privato. Sappiamo delle difficoltà che hanno i sistemi pubblici europei, sappiamo delle difficoltà che hanno i sistemi privati. Da anni il settore delle assicurazioni private in sanità non cresce in nessun paese, neanche in quelli molto molto ricchi. Perché? Perché i premi sono diventati alti e difficili da essere sostenuti. E poi tutto sommato la medicina reattiva è ancora molto non unpredictable, cioè difficilmente definibile in quelli che saranno i suoi prossimi, i suoi prossimi limiti futuri. Ed è molto determinata dalla offerta. E l'offerta è mal distribuita per definizione. Io non viaggio i miei colleghi, ma giustamente i medici vanno dove sono pagati meglio e per diventare medico oramai, non è più come ai tempi in cui mi sono laureato io 5 anni, 6 mesi, ci vogliono 10, 15 anni se vuoi fare qualcosa di particolare e dopo che hai fatto qualcosa, hai studiato bene, qualcosa di particolare, vorresti anche guadagnare il giusto. Ed è molto difficile soggettivamente definire quello che è giusto per se stessi. Ecco, queste sono giusto, le ho tirate giù ieri. Perché ritengo che si debba cambiare modalità? Perché in realtà le cause di morte o di disabilità o di inabilità sono quasi tutte facilmente identificabili e gestibili. Però continuiamo a aspettare che sia il paziente che va dal medico e i servizi sanitari ti chiamano molto molto raramente. Per cui abbiamo questo circolo vizioso, stiamo osservando che abbiamo un circolo vizioso dove oramai siamo giunti al limite, per cui stiamo tutti bene attenti ai servizi pubblici e ai servizi privati a continuare a aumentare i costi perché sappiamo che non sono più sostenibili, la gente preferisce andare out of the pocket di tasca propria e abbiamo bisogno di nuovi modelli. E fortunatamente però abbiamo anche gli strumenti che adesso ci possono consentire nuovi modelli. saremmo invagi sicuramente da wearable device che oltre a contarci i passi ci conteranno le pulsazioni, la pressione, la nostra glicemia e così esplorando un pochettino il mondo delle nuove imprese anche in Italia che è un paese piuttosto lento vi garantisco che il 50 per cento delle start up ragiona su wearable device in questo momento. Però se noi mettiamo insieme gli strumenti elettronici o informatici di cui abbiamo ampia disponibilità come il customer relations planning, l'enterprise source, i fascicoli sanitari elettronici, la disponibilità di avere device manager tool e device applicati alla persona, otteniamo tantissimi dati che ci potrebbero consentire di essere proattivi, cioè di fare un tipo di medicina leggermente diverso dove non è più il paziente che va dal medico ma è il medico che chiama il paziente o è il sistema sanitario che interpelle il suo sottoscrittore e che ogni tanto lo chiama a controlli. Il vero problema di questo sistema è l'ansia. Non so se sapete che c'è un grosso dibattito sugli screening alla mammella se devono essere fatti ogni due ogni cinque anni. Ovviamente ogni due è molto più garantista ma crea talmente problemi di ansia che alla fine sono più i problemi di ansia dei tumori alla mammella che riesce a salvare. Immaginate cosa può succedere con i wearable device. Gente che tre volte al giorno chiama il cardiologo perché si accorge di avere la pressione che non è più dentro quello spazio che il cardiologo gli ha definito di sicurezza. Per cui il vero problema è avere il controllo dei dati personali ma con sistemi che consentano di comunque di limitare al massimo il livello di ansia della persona perché altrimenti avremo il risultato opposto. Ma considerate ora la situazione dove i medici sono molto pochi. a Bologna abbiamo più o meno un medico con i 200 persone. Vi sono paesi dove c'è un medico con i 5.000 persone. Se non si fa proactive medicine lì, se non si cerca di pianificare gli accessi alla sanità avremo sempre una situazione di massima disparità con le persone che non riescono ad accedere e con quelli che invece accedono troppo. A me sembra che in questo momento la tecnologia, la disponibilità di grandi dati ci consentono di andare verso questo tipo di medicina. Forse si dovrebbe fare uno sforzo per cercare un modello organizzativo che ci porti in quella direzione. Grazie. Grazie mille. Grazie. Altri interventi? Non essendoci altri interventi darei la parola a Margood per una prima conclusione rispetto a ieri e al dibattito che fino ad ora si è sviluppato nella mattinata. OIE Grazie. Grazie. Yeah. I want to thank all participants for their contributions. And my reflections on both today and yesterday, I also found it very interesting, like many of you said. And this issue of bringing technology to solve health problems, it's not a simple issue. I think I think we deal with one of the most complex type of projects that we could deal with. Henry Mintzberg is one organisational scholar and he said the hospital is the most complex type of organisation that humans have created and the health sector is complex and IT is complex. So we need this kind of reflection and coming together and I was encouraged to see the wide participation yesterday and today and to hear the calls both from my co-chair and from Professor Mruzzi to say we need this kind of events and this kind of monitoring the cases, learning from the stories of experiences. We have a concrete proposal for collaboration and maybe I save that for later but I would just want to say this is encouraging to see the interest of this. On the issue of big data, will we also discuss that later? I have three points. A second moment. Because this vision we heard yesterday from you and now of the potential of big data and the more proactive models, more preventive and I think these changes coming are transformative and radical and we maybe underestimate how much they will change in the long run but they are not here tomorrow and I think we could discuss also concrete activities how to prepare for these changes more in the short run for collaboration. And we had some last few years in Oslo collaboration with a genetics institute and that's one way through which big data will come, through the personalised medicine, precision medicine, using genetic profile to design care. What we learned from this project in terms of the IT requirements is that there is a need to build infrastructure, high performance computing infrastructure. That's expensive. A lot of investments are required before this can run on a continuous basis. We're not in the megabyte or gigabyte or even terabyte. You need a petabyte scale, the league of technology. And not just storage, dynamic computational storage. There is an immaturity of knowledge about what variants mean. This comes every day new knowledge, every week comes new knowledge. So to build systems that pull out this knowledge and give it to clinicians is also demanding. And what we see in the genetics field, what appears to be the reality is that this will become a reality first in the domain of cancer and for rare diseases, to give diagnostic information for rare diseases. So I don't know the affiliation of this network, of the population, but those domains is where we should start to collaborate on this. Second, we should start to build capacity to analyse data. And we don't need the big data before we should start to build this capacity. We have health data. We have a lot of data. We have patient records. We have registries. And there is a lot of potential just from what we have, to build capacity to analyse. Like Luca, no, not Luca, from Noema Life, which gave the example of what one can do. This is for public health to start with, I think. Maybe not the clinician. Thirdly, we can already now test out the more proactive models in a small scale. Maybe to go to patient groups, this should start from the clinics, maybe to go to patient groups like diabetes or COPD and work with them to get patient-generated data coming in and be more proactive. This is also a simpler thing than waiting for this data tsunami from all the wearables and all the devices. We should be concrete and start to prepare for this. Yes, we will probably discuss more on concrete collaboration in the next step, but that's some of my reflections on the big data area. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Consentitemi a mia volta di formulare qualche pensiero di sintesi, conclusivo, una parola eccessivamente impegnativa. intanto guardando al futuro però tenendo conto di ciò che è stato realizzato in questi contesti multiformi, estremamente diversi per caratterizzazioni istituzionali, etniche, lingue, e culture, per quanto riguarda la costruzione di sistemi informativi e informatici orientati alla digitalizzazione. Beh, innanzitutto c'è un dato che non può non essere sottolineato. questo sforzo di costruzione di sistemi di tal genere in una fase sufficientemente avanzata, pur con le diversità rilevate, tutti orientati a centrare un obiettivo, migliorare la qualità del rapporto fra il cittadino utente e i sistemi sanitari e a facilitare la mobilità sanitaria in contesti territoriali sempre più vasti, questi sono sistemi nati all'interno del pubblico con un forte investimento istituzionale. sono il frutto di una politica pensata, di una strategia che cresce nel tempo, evolve, si interroga e si perfeziona. Fra il 2012 e il 2014, negli States, Google cercò di vendere un prodotto, il fascicolo sanitario elettronico, ai cittadini americani. L'impresa è fallita miseramente, era un fascicolo sanitario elettronico fai da te, in cui il cittadino aveva l'onere di inserire i propri dati di salute. Questo non funziona, funziona invece il sistema se è la struttura istituzionale deputata a preservare la salute e a dare assistenza qualificata ai propri cittadini, che definisce delle modalità attraverso cui le informazioni legate al percorso di assistenza entrano all'interno di un contesto che consente al cittadino di essere sempre più informato e dialogante. Questo è un primo dato. Il secondo dato che è emerso fra le diverse soluzioni esperienziali che sono state rappresentate c'è una prevalenza assoluta del modello della costruzione del fascicolo o del personal record europeo attraverso la interoperabilità, non attraverso una strutturazione top down, centralizzata, omogeneamente pensata fin dall'inizio. In altri termini l'orientamento alla diversità che poi si confronta e trova dei minimi comuni denominatori per riuscire a costruire comunque un sistema dialogante ha dato frutti in termini di esperienze di qualità superiori rispetto a un dirigismo di natura statuale. Terzo. Abbiamo ascoltato come molte cose sono state fatte. I fascicoli sono popolati in maniera significativa di dati e informazioni. E lo stanno diverendo sempre di più. È una fase di implementazione costante. Allora la soluzione tecnologica c'è. Il livello di maturazione del prodotto è buono. Però il cavallo non beve. Il cittadino in tutte le esperienze non è straordinariamente orientato ad attivare il fascicolo e utilizzarlo. I numeri sono piccoli. Allora cos'è che manca? Manca quell'aspetto non marginale di una comunicazione al cittadino ma anche al professionista. In particolare nella nostra esperienza. se il professionista non capisce che il fascicolo sanitario elettronico quei dati, quelle informazioni, quel tipo di aggregazione, quelle correlazioni, quegli indicatori che possono essere costruiti attraverso quei dati sono utili anche alla sua professione, alla sua capacità di diagnosi e di prognosi, facilitano il suo mestiere, riducono i tempi di latenza rispetto al rapporto con il cittadino. Se non capisce questo, che il fascicolo serve anche a lui nella sua professione, oltre che al sistema e al cittadino stesso, beh, la vita del fascicolo nella sua evoluzione è più stentata. Allora, nella costruzione del futuro, attenzione a mandare massaggi sempre più precisi, puntuali, accattivanti con le cose che si fanno. Il cittadino convinto nel momento in cui coglie fisicamente, materialmente, l'utilità di quello che gli viene offerto. E però non è sufficiente. Occorre che ci sia anche una sensibilizzazione e quindi poi una consapevolezza che cresca e che si consolidi all'interno del mondo professionale. Ultimo. Sostanzialmente abbiamo segnato uno spartiacque. secondo me. E in ordine ai contenuti che devono popolare il fascicolo e in ordine alla sua fruibilità. Per quanto riguarda il contenuto, prima e dopo quello di cui parleremo, i big data. In questo momento noi abbiamo la possibilità di individuare una serie di arricchimenti dentro il fascicolo, così come storicamente è emerso, che conosciamo quindi nella sua esperienza attuale, marcando maggiormente l'attenzione ad aspetti non meramente curativi, ma anche di prevenzione, di predizione di situazioni di fragilità per interessare fasci popolazione giovani, per poter costruire degli indicatori che ci consentono di essere proattivi più di quanto non lo fossimo ieri. attraverso l'inserimento di quella importantissima soluzione che è il consentire al titolare del fascicolo di delegare qualcuno, parente, amico, il caregiver nelle assistenze domiciliari, ad esempio, per poter sfruire dei dati che sono contenuti nel fascicolo e che ulteriormente fanno del fascicolo lo strumento per allargare l'area delle compliance attorno ai meccanismi di assistenza del paziente stesso nelle situazioni in cui il professionale e il non professionale convivono e devono convivere sempre di più e via discorrendo. E poi c'è una discriminante non sul versante dei contenuti in attesa dei big data, ma sul versante della fruibilità del fascicolo, la sua accessibilità del fatto che il cittadino ne colga più direttamente e immediatamente l'utilità che è rappresentata dalle start-up. Passaggio fondamentale per far sì che il fascicolo non sia soltanto dentro il computer sia all'interno del mobile e attraverso il mobile abbia una possibilità di diffusione e di utilizzo nell'immediatezza del bisogno molto maggiore. Questo mi pare siano alcune delle piste di lavoro che emergono, che sono già in campo, che segnano il futuro e su cui da un lato cercheremo di aggiornarci nella continuità delle esperienze che sono già state presentate e dall'altro cercheremo di essere piccoli protagonisti nel prospettare un impegno comune lì dove il tema diventerà e adesso entriamo nella seconda parte della mattinata diventerà come popolare il fascicolo del settore elettronico anche, oltre che dei dati strutturati dai sistemi, dalle grandi piattaforme anche da quell'insieme, quella nuvola sterminata di dati e informazioni che sintetizziamo nella formula big data. Al proposito allora chiedo di intervenire sull'argomento per un spunto di riflessione ulteriore centrato su questo aspetto alla dottoressa Teresa Galelli che lavora nell'antena di CUP 2000 e che è responsabile dell'arborazione dei progetti di natura europea. Prego, dottoressa Galelli. Alta la presentazione, un attimo. Mi sentite? Sì. Bene, buongiorno a tutti. Mi chiamo Teresa Galelli lavoro a CUP 2000 come ha già detto il presidente e mi occupo d'attento di progetti europei e di fondi di ricerca e quindi sui vari programmi europei. qualche giorno fa durante una riunione con gli organizzatori del workshop mi è stato richiesto di individuare delle risorse cioè delle risorse ossia quindi in questo caso dei fondi delle risorse economiche per avviare delle attività con il network con le persone che hanno partecipato a questo a questi due giorni di di convegno e allora la mia domanda è stata su che cosa ci focalizziamo cioè ovviamente il mio compito era quello di selezionare alcune alcuni bandi alcuni call a livello europeo e su cui poi si possono eventualmente si potranno eventualmente presentare dei progetti di ricerca quindi fare delle proposte insieme costituire dei consorzi a livello europeo allora riflettendo appunto si è così deciso di portare avanti il concetto dei big data che è stata insomma una scelta direi buona opportuna dopo insomma le presentazioni che sono state fatte in questi giorni anche quelle le ultime di stamattina e in particolare anche le due aziende che hanno presentato delle idee molto interessanti sull'eventuale utilizzo dei big data e allora inizialmente la mia preoccupazione è stata è stata insomma mi sono preoccupata perché ricordavo in effetti sul programma Horizon perché ci riferivamo al programma Horizon 2020 in effetti la call sui big data in sanità si era appena chiusa si era chiusa infatti a febbraio ed era in particolare la cito perché secondo me è importante riuscire dal momento che i progetti che sono stati presentati in questa call verranno sono valutati in questo periodo e quindi cominceranno nei prossimi mesi e nei prossimi giorni si conosceranno i risultati può essere interessante andare a vedere quale tipo di progetti sono stati finanziati perché la call era quella di personalized medicine era la 18 e riguardava big data supporting public health policies e quindi l'argomento era su come utilizzare i big data per supportare la vita sana e prevenire le malattie come sviluppare soluzioni integrate per acquisire gestire condividere processare e sfruttare i big data e quindi la creazione di network che mettono in relazione diversi tipi di fonti per supportare le strategie pubbliche perché era appunto big data supporting public health policies quindi vi invito io sicuramente lo farò ad andare a vedere quali progetti sono stati iniziati su questo punto su questo argomento anche perché poi ci possono essere sia degli spunti sia l'individuazione di eventuali partner e sia appunto capire che cosa si sta realizzando che cosa è stato fatto e quindi promuovere delle idee che siano correlati in un certo modo da quello che si sta già facendo è molto semplice farlo basta collegarsi al sito di Cordis della commissione c'è un servizio di open data inserire i filtri e ovviamente le informazioni vengono subito trovate individuate per quanto riguarda quindi le call future e quindi ho fatto una una ricerca e ne ho individuato due che hanno già delle scadenze e una che però non si conosce ancora effettivamente quando quando verrà emessa e quindi quanto budget c'è a disposizione e quando sarà la scadenza allora in particolare una call non è tecnologica una è tecnologica invece e l'altra è sulla non è di Horizon 2020 ma è sull'Innovative Medicine Initiative allora la prima call riguarda la societal challenge la sei che european changing world inclusive innovative and reflective society ah un'altra cosa un'altra mia preoccupazione era questa ossia essendo la call su big data già chiusa queste call che ho individuato sui big data non sono focalizzate esclusivamente in sanità quindi sono trasversali tutti i settori ma ovviamente la sanità vi è ricompresa quindi potrebbe essere interessante presentare un progetto a valere su questi su questi bandi allora la call che ancora in effetti non è uscita si chiuderà a febbraio è la co-creation e il titolo della call si chiama policy più che della la call è co-creation il tema è policy development intendo in the edge of big data data driven policy making policy modeling and policy implementation ovviamente la ricerca per quanto mi riguarda è stata banale nel senso la prima ricerca che ho fatto è andare a individuare le call che presentavano i termini big data e quindi l'ambito è la co-creation per la crescita e l'inclusione generalmente in questa in questo tipo di call quindi riguarderà in generale l'engagement dei cittadini degli utenti quindi in questo tipo di consorcio ci saranno università partner social partners che possiamo associazioni di pazienti associazioni di volontariato imprese quindi e anche e vari settori tra cui anche il settore creativo e le imprese sociali allora in questo caso si tratta di progetti di research and innovation action la deadline è a febbraio del 2017 e ci sono 11 milioni di euro a disposizione la taglia la dimensione dei progetti è di 4-5 milioni di euro quindi verranno finanziati tra i due massimo tre progetti su questa call che cosa si chiede si chiede di realizzare appunto progetti per metodi migliori per metodi nuovi o utilizzo di metodi già assistenti ma che siano migliorati per implementare nuovi nuove e progettare politiche che siano evidence informed e dopo insomma questa due giorni di interventi mi sembra che sia anche una call che potrebbe essere una call abbastanza centrata perché abbiamo parlato più volte fino a pochi minuti fa dell'esigenza di costruire e sviluppare nuovi modelli per la gestione di tutte queste informazioni ieri quando anche la professoressa Finocchiaro parlava delle informazioni dei volumi delle informazioni della quantità di informazioni ma il problema rimane appunto che abbiamo bisogno di modelli nuovi che possono garantire anche la qualità delle informazioni ossia le informazioni che vengono digitalizzate come diceva ieri la prof possono perdere in qualità in completeness in completeness e e quindi le informazioni che vengono decontestualizzate devono essere ricontestualizzate per ricontestualizzare le informazioni abbiamo bisogno quindi di nuovi modelli e nuovi strumenti e quindi anche perché i ruoli e le responsabilità in questi contesti si modificano e quindi è necessario sviluppare delle nuove metodologie per appunto poter implementare questo tipo di politiche la call quindi in particolare richiede lo sviluppo di attività che promuovano e incoraggiano il networking di stakeholder rilevanti quindi nei vari settori e quindi lavorare in team diciamo nella sviluppare e modellare politiche che siano che possono essere guidate dai dai dati e quindi ovviamente come in tutti i progetti europei si richiede un network multidisciplinare e questo network deve promuovere deve identificare metodi strumenti tecnologie e applicazioni che possono essere implementate nel settore pubblico quindi io ho estratto dalla call alcuni passaggi quindi di rendere i governi in grado avere i livelli di beneficiare della disponibilità di tutte le informazioni e dei dati quindi strumenti di data analytics che possano supportare le pubbliche autorità e in questo caso ho individuato appositamente questa parte che riguarda e appunto perché la cosa è trasversale ma in questo caso riguarda proprio il fatto di supportare con strumenti di data analytics le politiche che riguardano la salute che riguardano la sicurezza dei cittadini che riguardano il welfare dei cittadini quindi progettare politiche nuove politiche che siano verificati strumenti che siano validati questo con l'obiettivo di guadagnare in efficienza di ridurre i costi di transazione di promuovere la crescita creare nuovi modelli di business nuove imprese nuovi posti di lavoro quindi riduzione dei carichi amministrativi non da ultimo la soddisfazione dell'utente e aumentare il livello del coinvolgimento della partecipazione civile e quindi concludendo su questa su questa call i progetti devono essere focalizzato sfocalizzati sullo sviluppo di metodologie per l'utilizzo dei big data nella promozione di politiche la valutazione delle implicazioni di tipo economico politico etico e legale nell'utilizzo dei big data quindi lo sviluppo di metodi e strumenti per l'analisi la visualizzazione dei dati e quindi le varie interfacce come i dati vengono poi effettivamente resi disponibili a chi li deve utilizzare quindi sviluppare metodi e nuovi schemi quindi i vari legami che ci possono essere fra i dati utilizzo di dati provenienti da diverse fonti strumenti di estrazione di dati appunto per politiche di modellazione e simulazione la prossima call invece è prettamente tecnologica e l'ho individuata sul programma ICT e si chiama big data PPP PPP sta per private public partnership ed è quindi research addressing main technology challenges of the data economy la deadline c'è tempo in questo caso è anche successiva a quella della call precedente ovviamente sono contesti completamente diversi quindi presuppongono la costituzione di consorzi che sono diversi dove le specificità e le competenze dei partner hanno sicuramente pesi diversi in questo caso è una call tecnologica il budget a disposizione è di 31 milioni di euro la dimensione dei progetti va dai 2 ai 5 milioni di euro nell'ipotesi in cui i progetti sono tutti come si fa di solito superiore quindi 5 milioni di euro almeno 6 progetti su questa call verranno finanziato avevo qui dato individuato un dato che era quante volte il termine big data viene citato nel programma biennale ICT viene citato 55 volte l'obiettivo di questa call tecnologia gli obiettivi diciamo generali i metodi gli standards i processi nell'utilizzo dei big data e individuando e diciamo non ho neanche bisogno stamattina di descrivere ulteriormente cosa si intende per human factors perché la non ricordo adesso ma me lo sono segnato il nome dell'azienda che aveva fatto la presentazione prima Deep Blue ha spiegato benissimo stamattina che cosa si intende per human factors quindi l'usabilità delle soluzioni la sostenibilità anche delle soluzioni sia economica che organizzativa e quindi è importante che in questo tipo di progetti elementi di human factors siano ricompresi e quindi come anche coinvolgere gli utenti che effettivamente utilizzeranno queste informazioni come fare in modo che le queste soluzioni scusate come fare in modo che le soluzioni siano usabili e sostenibili e la core si chiama Big Data PPP in effetti ho qui questo grafico non è mio è della Big Data Value Association che diciamo una partnership appunto pubblico privata che è stata voluta dalla Commissione Europea nel 2014 e che è una collaborazione aperta tra la Commissione e varie diciamo aziende private tra cui i grandi big player per fare dei nomi a caso ne parlavamo proprio stamattina e poi me li sono anche segnati c'è anche Oracle Nokia Philips tutti i grandi nomi che si occupano di tecnologia ma sono andata anche a cercare nei membership di questa associazione nei membri di questa associazione anche partner italiani no? da cui eventualmente potremmo anche partire perché sono proprio locali di Bologna quindi l'Università di Bologna e il Cineca l'Università con un consorzio interuniversitario per l'informatica il Cini e questo per dire che ho introdotto questo grafico perché è importante a mio avviso nel momento in cui si dovesse decidere di presentare un progetto su questo tema perché c'è un'idea è importante andare ad analizzare e partecipare capire chi partecipa a questa associazione che è stata voluta dalla commissione appunto e che porta avanti i temi legati ai big data e quindi il grafico riguarda la value chain appunto dei big data quindi la generazione dei big data la loro acquisizione l'analisi dei processi l'utilizzo dei big data scusate il fatto che lo storage dei big data e la visualizzazione l'utilizzo dei servizi trasversali a tutte queste dimensioni vi sono ovviamente i concetti di sicurezza protezione elevati privacy e trust quindi fiducia allora che cosa ci si aspetta da questa call dalla partecipazione a questa call dalla presentazione di progetti su questa call allora l'inizio della che i contenuti appunto della call riguardano il fatto che il valore generato dai big data rappresenta opportunità significative ma piuttosto ma sembrerebbe che attualmente queste potenzialità queste opportunità siano perse perché perché i software attualmente in uso attualmente in uso e le architetture IT le soluzioni architetturali IT sembra che non siano adatti adatte per processare analizzare visualizzare i dati in una situazione appunto dove come dicevamo ieri le cinque dimensioni dei big data ossia il volume la velocità la varietà e la veracità e il valore dei big data aumentano in modo vertiginoso quest'altro schema sempre appartenente alla big data value association ma non sto l'avevo introdotto ma ovviamente non non sto a dilungarmi su questo anche perché il professore ne aveva parlato e ne parlerà sicuramente in modo più esperto e più approfondito di me e e quindi per concludere su questo su questo su questa call e i progetti di ricerca appunto e innovazione e richiederanno di progettare programmi software e per supportare i programmatori che effettivamente andrà ad utilizzare i big data a individuare quali siano i vantaggi di queste architetture in modo di ottimizzare tutti i dati e quindi processi di estrazione di dati strumenti di strumenti di visualizzazione che possono essere utilizzati dal dall'industria dai servizi dell'industria perché come avevo detto prima questa call non è focalizzata in effetti sulla sulla sul sanitario e per per dare le industrie strumenti di supporto alle decisioni e i progetti devono anche includere diciamo strumenti che possono processare i dati in tempo reale strumenti che possono anche utilizzare quei dati che però la natura sono incompleti non sono non sono non sono con non mi viene la traduzione in questo momento possibly noisy nel senso con dei rumori per cui non non puliti ecco e per concludere avevo individuato questa 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 call sull'Innovative Medicine Initiative che non è ancora uscita allora in particolare questo programma che ha emesso una serie di call che sono già chiuse era proprio centrato sul si chiama appunto si chiama Big Data for Better Outcomes e appunto l'obiettivo di catalizzare e supportare l'evoluzione di di strumenti che siano appunto guidati dai dati e che possono che possono promuovere la sostenibilità dei sistemi sanitari e ovviamente la qualità della qualità delle cure il possibile la possibile la possibile call futura e sarà una call che riguarderà quelli che vengono sono stati definiti i real world data infatti la cosa si chiama European Distributed Data Network Project to facilitate intra EU access to and analysis of real world data to improve health outcomes for EU patients allora volevo essere sono andata a a individuare che cosa si intendeva per real world data e se riesco a trovarla ma forse me la sono me la sono persa avevo individuato una no non la trovo va bene cercherò di ricordarmela una definizione una definizione avevo individuato una definizione data del Cineca a real world data ed erano appunto tutti quei dati che non si riferiscono a studi randomizzati controllati e quindi real world data sono quelli che vengono prodotti dal mondo reale e quindi sono proprio i data che derivano da database amministrativi i dati che riguardano l'elettronic health record i dati che riguardano il personal health record i registri registri mi vengono un po' suonnellemente i registri di patologie le osservazioni che vengono fatte ad esempio direttamente dai medici quando visitano un paziente allora l'obiettivo di questa futura call è appunto quello di individuare quali possono essere tutte queste fonti di real world data dargli verificarle e quindi migliorare e quindi diciamo guidare in questo modo il miglioramento dell'offerta di salute e quindi migliorare come appunto si ripropone tutto il programma quindi big data for better outcome la qualità delle cure dei sistemi sanitari per cui l'impatto atteso di questa call è quello di incrementare in modo significativo l'accesso a queste real world data quindi costruire un network e arrivare ad individuare e verificare 250 fonti di dati entro il 2005 e garantire l'accesso ai dati quindi garantire che tutto ciò che riguarda gli aspetti legali e di privacy e tutti siano garantiti dai siano garantiti per i fornitori appunto di dati che poi siamo alla fine i cittadini io ho concluso bene grazie lascerei ora la parola per un commento pertinente al professor De Kerkhove che ulteriormente ci illuminerà sulla evoluzione possibile dell'utilizzo di big data derek se vuoi venire qua o la fai anche la tua figura sul palco vuoi dire vuoi metterti lì grazie infatti la cosa che mi ha prima colpito è che ricordo che l'introduzione dei big data del discorso sul big data è un cambiamento paradigmatico un cambiamento paradigmatico non solo della medicina ma di tutte le possibili cose che possiamo aspettare di questo tipo di 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 indagini infatti posso parlare piuttosto inglese eh certo no really the paradigmatic change was underlined very strongly by Dr. Raji telling that we're moving from or we can expect to evolve from a reactive medical care to a proactive one I think this is the big news for me not that I didn't think about this before but in terms of medicine it's clearly a possibility that we have to consider and work towards and my first question is related to what we have been discussing before do we address an integrated health care card for Europe before we get heavily into big data even though what Dr. Garelli has presented is clearly an intention of the European Horizon 2020 but also IMI and ALDE orientation of where things are going to go now and just wonder to what extent individual attempt at using big data in various parts in a non-coordinated way are going to be successful my dream is that in schools today we include Hadoop which is your first entry into big data Hadoop is the system that is actually accessible free of charge more or less it's a bit like learning to do HTML in the very beginning of our network I imagine students young students who are practicing Hadoop to develop interesting application you know around various thematics concerning public health but also public benefits I sometimes wonder we have a lot of industry providers who are doing a lot of offers of big data research as I mentioned yesterday there are some areas where big data is already being used very successfully but the first the big challenge to the health system is in fact integration and coordination of the various sources and the various methods of access to these sources I think that the creation of I was interested in the distributed data network you know we should probably look as a group here as and I think I followed this suggestion for Dr. Marusi as a group we might want to take advantage of the fact that we're here together now to actually formalize some sort of association among ourselves and maybe even some sort of direction maybe we should already start working on one of these or more than one of these calls and for that I think that we have already a lot of resources present I was impressed by the initiatives and the originality of the initiatives of the various countries that we have been presented I think we've got a very powerful group here should we address big data as one of our federating objectives this is more or less my question as for the actual problems we are facing I didn't have a chance to go into detail yesterday because of time but clearly there are definite issues that we need to address when it comes to how one has access to such information as I said big data is in transition we are at the beginning really of what can be done with such resource and we are still at the individual kind of initiative but what we have just been presented shows that there is a ground from which we can actually push this individual initiative into a federated kind of approach one of the questions of course that I have been thinking about the advantage of knowing ahead of time where the problems are is strong and this is in reference to proactive medicine at a large number of you know in the scope of a large number of people but I also think about success and failure in things that have happened at the government level when it came to prevention the number of medical prescriptions that across the nation have been you know I think about in France preventing against a specific kind of influenza I forgot now that's two years ago it turned out to be an extremely big expense for not very good results so we have to be also big data should also help us in preventing such such occurrences I'm thinking about the Zika mosquito today what are we going to do about Zika when it emigrates from Brazil into Europe and how can we how can we prevent big disasters in that direction so there are several aspects of the question of big data that we should not take for granted and that requires thinking together about these matters I hope that I wasn't ready to make a big discourse now so that's why I'm sort of improvising but at the same time I think that I'm very happy that this topic has been chosen and presented in a wonderful way by Dottoresa Galelli Questions? Grazie te lo sei cavato benissimo eh? te lo sei cavato benissimo anche se non hai preparato no sono preparati di niente avevo una lista delle sicure tanto ci penso eh per l'appunto adesso apriamo una seconda tornata di interventi rispetto al tema che abbiamo introdotto con la comunicazione dottoressa Galelli e con la sottolineatura del professor De Kerkova quindi chi ritiene di dover intervenire alza la mano viene si presenta ammesso che non abbia già preso la parola precedentemente e poi concluderemo prego forse qui è un po' più la luce allora visto che ieri ho parlato in inglese oggi con il beneplacito dei miei colleghi stranieri parlerò in italiano proverò almeno famose pari opportunità è giusto e mi perdonerete magari eventuali goffaggini visto che il motivo per cui parlavo in inglese perché ho sempre lavorato su questi temi in inglese e non ho mai presentato in italiano quindi qualcosa sarà un po' tradotto alla meglio riflettendo su questi temi penso che volevo prendere su partire da un paio di commenti recenti e però anche collegarmi a una serie di altri interventi che ci sono seguiti nella mattinata che un pochino si parlano tra di loro in una maniera indiretta per fare per introdurre big data nel healthcare le sfide non sono tanto l'ho detto ieri anche nella mia presentazione secondo me o anche secondo i colleghi con cui lavoro non sono tanto sfide tecniche appunto di volume velocità eccetera di costruire i tools e tecnologie anzi perché come Derek sottolineava le tecnologie esistono già sono costose bisogna implementarle ma esistono il problema è che appunto Hadoop è gratis ma il training no è costoso le skills non sono gratis e sono costose sono lunghe da costruire quindi penso che un aspetto che secondo me Margun è andata molto ha già accennato e che però va discusso in una maniera esplicita è che bisogna realizzare una convergenza tra la ricerca scientifica e la assistenza sanitaria che alcuni si aspettano già da tempo e che ancora comunque si fa molta fatica a realizzare e se ne è visto veramente poco fino adesso questo è necessario per portare alla realizzazione di quello che il dottor Raggi parlava di come proactive medicine ma che in realtà poi si riferisce a una serie di metodi e tecniche che stanno venendo sviluppate nell'industria per largamente spesso chiamate come predictive analytics il motivo per cui per fare predictive analytics in assistenza sanitaria ci vuole anche un'integrazione con il mondo della ricerca è perché ovviamente come tutti voi sapete sappiamo una frazione di quello che dovremmo sapere e si continua a scoprire ogni giorno quindi il rischio e i costi di fornire in assistenza sanitaria informazioni non aggiornate quando da qualche altra parte si è già saputo qualcosa in un contesto in cui si vuole accelerare l'integrazione delle scoperte eccetera è un costo che probabilmente non ci si può permettere anche penso per implicazioni legali e di tutto quanto e io oltre a patients like me ho presentato perché pensavo che sarebbe stato più interessante ho lavorato più a lungo ma appunto sto studiando una serie di altri casi che sono tutti di big data research in biomedicine e questo problema delle skills e dell'integrazione è endemico per cui per esempio sto studiando un caso che si chiama Cosmic che sta per catalogo delle mutazioni somatiche nel cancro ed è il principale database al mondo sviluppato a Cambridge nel Sanger Institute per raccogliere le interpretazioni funzionali delle mutazioni dei cancri somatici e lì appunto la curazione dei dati e la rapidità eccetera è un fattore molto molto importante ma non è banale non è solo una questione di skill ma è anche proprio una questione di la natura stessa del dato e della nostra conoscenza scientifica dei cancri tra l'altro le tecniche per lungo tempo la sequenzazione genetica si sa gli algoritmi se tu dai la stessa sequenza in pasto a diversi algoritmi di interpretazione ti danno risultati diversi tant'è vero che varie istituzioni organizzazioni eccetera ognuna sceglie secondo le proprie necessità dei vari blend di algoritmi per armonizzare cercare di questi sono quelli con cui vengono ancora sperimentati i metodi con cui si sperimenta poi nella clinica ora con nuove tecnologie le nuove tecnologie ci si aspetta che questi problemi di affidabilità siano largamente superati però nel frattempo non è più una questione di genetica e genomica perché ora tutto l'attenzione si sta spostando verso l'epigenetica quindi bisogna fare proteomics bisogna fare tutta una serie di altre sequenziazioni che sono molto presto diciamo molto immature o comunque in divenire rispetto a quello che dovrebbero diventare quindi questo questo problema di aggiornamento e di affidabilità della nostra interpretazione dei casi clinici secondo me è un problema che andrà diretto al cuore dell'assistenza sanitaria basata su big data e che rimarrà tanto perché ne abbiamo ancora da scoprire oltretutto poi altri tipi di skills da costruire in divenire sono tutti gli altri tipi di collegamenti interdisciplinari un'altra network che sto studiando si chiama medical and environmental data mashup infrastructure che è una collaborazione tra l'ufficio meteorologico del Regno Unito e diverse scuole di medicina e anche quello è stato un progetto in cui la disponibilità di skills in termini di data analysis è stato molto molto drammatico è stato un problema molto drammatico perché non solo la disciplina della scienza dei dati ma poi ovviamente interfacciare con le varie discipline ambientali geografiche e mediche quindi tutti i problemi ovviamente che il clinico non è l'informatico e l'informatico non è il clinico si moltiplicano e si rendono ancora più complessi in una fase di ricerca scientifica in cui si sta cercando di scoprire qualcosa che non si sa oltretutto quando si mettono insieme diverse discipline ci sono anche diverse culture riguardo all'accesso alla disponibilità dei dati quindi c'era quella prospettiva di integrare 250 data sources dal 2025 io non so Madme ha lavorato per tre anni adesso alla conclusione di questo progetto e cercavano di integrarne una ventina dove gli owner dei data erano i partner stessi del progetto e dopo tre anni adesso hanno un dataset di salute e una montagna dei dati ambientali perché l'ufficio meteorologico non ne frega niente ma invece nel mondo medico è tutta un'altra storia perché il mondo medico è scarsissimo nella condivisione dei dati non solo per una questione di confidenzialità spesso la questione di confidenzialità viene anche usata per proteggersi su ownership per cercare di capitalizzare nel mondo della ricerca insomma dati che comunque sono stati molto costosi da curare in cui bisogna lavorare a lungo quindi si vuole mantenere una priorità in questo giardinetto quindi bisogna prendere molto sul serio questo tipo di sfide e pensare io ho accennato anche in un altro punto l'idea dei big data di far circolare i dati quindi della ripubblicazione sia che siano aperti verso il fuori di una rete sia che siano semplicemente attraverso diverse istituzioni sono temi relativamente nuove quindi che hanno bisogno di una scoperta insomma di un certo modo di relazionarsi da un punto di vista legale eccetera vado verso la chiusura queste sono quindi sfide etiche che che sono molto molto complesse perché quindi la ricerca scientifica si sta adottando di un sacco di tecnologie che garantiscono l'anonimità quindi SAIL che è un gigantesco database che riusa i dati appunto amministrativi delle pratiche generiche degli ospedali di tutto il Galles quasi tutto il Galles l'ambiente di ricerca che è stato costruito per i ricercatori per usare questi dati passa attraverso tre stadi di anonimizzazione e quindi questo è un problema nel senso che è un ambiente comunque molto efficiente per quanto riguarda la scoperta scientifica magari ma la riportazione di eventuali risultati che sono clinicamente rilevanti alle persone che ne sono affette diventa sbarrato quindi le complessità da un punto di vista di sicurezza e confidenzialità per quanto riguarda questo rapporto e quindi la realizzazione di predictive analytics o proactive medicine eccetera sono enormi non da ultimo le partnership pubblico-private perché infatti c'era la presentazione di dei ragazzi di Noema dei sviluppatori di Noema prima in cui si faceva l'esempio infatti di una serie di esperimentazione di proactive medicine su cronici renali sui pazienti cronici renali questo è esattamente lo stesso tipo di problema medico che è stato allo centro di uno scandalo di pubbliche relazioni un mese fa nel Regno Unito perché la NHS ha diffusi dettagli di una collaborazione che faceva con DeepMind la famosa compagnia di machine learning che ha battuto il campione di Go eccetera in cui si davano praticamente accesso a milioni di record di pazienti agli algoritmi di Google che quindi non sono solo ovviamente una tecnologia ma è una tecnologia che va allenata quindi anche la tecnologia sviluppa degli skills e bisogna pensare ai termini attraverso cui il pubblico dà delle risorse in mano a delle aziende private che possono sviluppare anche magari rispettando la confezionalità dei pazienti delle skills tecnologiche diciamo da parte di questi machine learning non da ultimo il problema dei dati personali come accennavo una sequenza genetica su di me può avere implicazioni per la salute di mio padre o di mia madre o di mio fratello o dei miei figli e nel caso di Google si richiedeva per poter curare o appunto detect preventivamente i pazienti che avrebbero avuto una crisi renale in anticipo bisognava dare in pasto all'algoritmo tutti i record di tutti i pazienti sani anche rispetto ai reni ovviamente per poter ovviamente calcolare le opportune differenze quindi anche nei confronti dei pazienti di reni i miei dati non sono più miei dati e quindi bisogna capire tutto questo tipo di interrelazioni le implicazioni sono enormi grazie grazie è stata una risottolineatura estremamente interessante quanto già avevamo ascoltato ieri mattina altri interventi prego si presenti per cortesia buongiorno buongiorno rita gamberini università di modena reggio emilia mi sono trovata a lavorare con il cup 2000 in particolare in ambiti che hanno messo in gioco le nostre schiglie provengo dal settore dell'ingegneria gestionale mi premeva sottolineare tre concetti il primo nasce dal fatto che il sistema sanitario migliore paradossalmente è il sistema sanitario che dovrebbe lottare per pian piano tendere a scomparire cioè l'obiettivo di un sistema sanitario dovrebbe essere che le persone sono in salute oggi domani e che non abbiano più bisogno di lui quindi l'idea a mio parere che l'europa metta in piedi logiche di partnership pubblico privato nascono appunto anche dal fatto che innegabilmente logiche di questo tipo sono molto più sposabili in sistemi pubblici perché innegabilmente per loro è più facile sostenere una logica che punti solo alla salute dei cittadini più che sistemi privati che innegabilmente hanno a loro interno se non logiche di profitto quantomeno logiche di esistenza nel breve lungo e medio termine quindi questo diventa molto importante a mio parere per valutare molte delle soluzioni che sono state inserite nel senso che sono state presentate nel senso che se da un lato molte volte nella nei parametri di performance che vengono indicati viene indicata l'accesso ai dati viene indicato il numero di persone che lo usufruiscono un sistema pubblico può invece anche puntare al fatto che un sistema pian piano debba non venire più usato dalle persone proprio perché si è riuscita a creare ad esempio una condizione di awareness di consapevolezza di un problema per cui il problema sparisce se tutti diventassimo faccio un esempio a caso così consapevoli del problema del fumo da non fumare più paradossalmente tutta quella parte ad esempio di tumori generati dal fumo dovrebbe quantomeno per questa causa scomparire quindi credo che in tutte le valutazioni che noi abbiamo fatto sia importante introdurre anche una valutazione di costi evitati per il sistema pubblico e in particolare che i sistemi pubblici appunto diventino dei partner fondamentali all'interno delle partnership perché saranno loro i maggiori fruitori di tante delle innovazioni che voi avete presentato il secondo aspetto che mi preme evidenziare è il fatto che in realtà i big data sono già usati in moltissimi altri settori il primissimo che li ha usati per esempio il settore bancario che ha una marea di transazioni se noi pensiamo alle transazioni che ogni secondo avvengono nell'acquisto nella vendita di titoli nei banco quindi in realtà le tecnologie dei big data in termini semplicemente di performance di velocità o di dimensioni di dati utilizzati sono tecnologie che sono molto al di sopra delle dimensioni necessarie per il settore medico dove i dati non vengono prodotti al secondo per fare un esame noi abbiamo bisogno di un periodo lungo quindi in realtà le call tipo l'ultima che è stata presentata puntano a una diffusione del sistema sul livello europeo proprio perché la tecnologia è già matura ciò che invece non è maturo è il coinvolgimento e l'integrazione quindi più che la tecnologia in quanto tale l'ultimo aspetto è che finora si è sempre parlato molto di aspetti di curo di prevenzione di malattie in realtà uno dei problemi che la diffusione di questi sistemi a livello europeo vuole soddisfare è anche la possibilità permettetemi il termine della libera circolazione delle persone cioè moltissime logiche che sono nate da un settore più produttivo sempre più si stanno spostando ai settori dei servizi quindi anche in questo caso ci ritroviamo che ad esempio la fruibilità del dato medico in formati compatibili su tutto il territorio potrà permettere sicuramente anche una maggior possibilità di spostarsi ad esempio a persone con malattie croniche o comunque in generale a persone che potranno ritrovarsi in paesi diversi ma con un proprio bagaglio di dati medici che possono essere valutati dal paese nel quale si trovano in particolare questo punto è cruciale per tutta una serie di malati cronici che spesso e volentieri sono molto limitati nei loro spostamenti come Università di Modena e Reggio adesso ci siamo coinvolti in uno dei progetti regionali recentemente finanziati per i tecnopoli e stiamo appunto lavorando sulla progettazione di viaggi sostenibili una delle richieste che stiamo avendo dal territorio è proprio quella di rendere fruibile ad esempio i dati delle strutture che sanno gestire certi malati strutture di intrattenimento dagli alberghi musei tanto per dirvene una piuttosto che strutture che sono in prossimità di farmacie con determinati dispositivi o centri medici in grado di gestire delle emergenze perché sappiamo che ci sono malattie croniche che hanno bisogno della fruibilità di queste informazioni quindi a volte uscendo da quella che è una logica puramente medica in realtà il dato medico può avere dei fini anche semplicemente di permettere l'intrattenimento o la fruibilità di un viaggio per puro scopo ricreativo turismo basta volevo solo prego paolo spagnoletti luis e volevo anche io condividere a chiusura di queste due interessanti giornate qualche riflessione sui temi affrontati per arrivare anche a delle conclusioni prospettiche ricollegandomi alle call presentate prima da Teresa il primo tema la prima riflessione è che ho avuto un po' l'impressione che si sia voluto mettere a porre l'accento sul tema big data senza effettivamente poi riferirsi necessariamente a quello che le cosiddette big data i cosiddetti big data o le tecnologie abilitanti per i big data effettivamente riescono a fornire come capacità e questo non è nuovo questo questo tipo di misunderstanding già un paio d'anni fa sapete insomma le business school partecipano un po' alla retorica di queste nuove buzzword che emergono nell'ambito dell'innovazione tecnologica e insieme alle digital companies insieme ai provider di tecnologia insieme alla stampa insieme ai media cercano di di dare un contributo a volte critico a volte un po' meno critico e quello che ho riscontrato in questi ultimi due o tre anni anche in eventi organizzati in LUIS con settori quali quello assicurativo o altro insomma è che se si parla di big data e si mette intorno a un tavolo una serie di interlocutori esperti in materia di tecnologie informatiche si finisce spesso per parlare degli analytics tradizionali cioè si immagina un grosso data warehouse con tutti i dati accumulati all'interno e ha tutto il potenziale di conoscenza che è possibile estrarre da questi dati e molto spesso in diversi interventi scusatemi se sono un po' brutale ma in questi due giorni in diversi interventi a cui abbiamo assistito è venuta fuori un po' questa visione dei big data come un nuovo modo di denominare gli analytics l'invito invece che provo a fare è quello di riflettere ieri ho provato a dirlo brevemente anche nella presentazione di riflettere sul concetto di digital data stream cioè di big data come di analisi di flussi di dati che emergono in tempo reale non è vero assolutamente a mio avviso che in ambito sanitario non siano rilevanti i flussi di dati perché i dati sono soltanto quelli del fascicolo sanitario sono soltanto quelli delle interazioni formali con le istituzioni perché come diceva prima il collega Andrea Resca il paziente è un cittadino e come si è più volte detto in questi due giorni l'analytics che si può fare riguarda proprio la contestualizzazione e la correlazione di dati che riguardano la sfera sanitaria con dati comportamentali con dati di profilazione dell'utente con dati che provengono da diverse fonti in un'ultima anche la profilazione genetica e quindi il se con big data facciamo riferimento a quelle tecnologie che ci permettono di misurare qualunque gesto qualunque movimento qualunque spostamento dei cittadini e stiamo ragionando visto il contesto e il dominio applicativo sulle implicazioni in ambito sanitario probabilmente conviene riflettere anche sui diversi livelli decisionali che possiamo coinvolgere perché il far confluire questi flussi di dati tutti in un unico punto potrebbe essere anche inutile questi flussi di dati possono anche servire a rendere più interessante o più efficace un servizio specifico che magari non riguarda il contesto dell'assistenza sociale e sanitaria un servizio che però può essere collegato a servizi di assistenza sanitaria o a servizi core come quelli forniti dal fascicolo sanitario elettronico e che possono dare andare a riempire quel gap che mi è sembrato emergere anche ieri nell'ambito delle presentazioni delle varie good practice più o meno good practice europee e cioè si è detto a un certo punto sì ma il cittadino ha bisogno di una cartella non è uno user need non è un requirement non è neanche uno user need magari quella cartella di per sé per una cosa che fa quattro volte in un anno quindi non gliela posso non posso aspettarmi che sia quella la killer application le killer application possono essere tante altre che vanno a intercettare momenti e sfere della vita del cittadino in maniera più puntuale e allora come collegare le due cose beh da un punto di vista di governance e architetturale ieri sono venuti secondo me fuori diversi elementi interessanti perché mettendo in piedi un ecosistema digitale che combina servizi innovativi che migliorano la qualità della vita del cittadino nel suo stare a casa nel suo muoversi e quindi tutto quello che sta emergendo come una rincorsa al nuovo servizio alla nuova killer application e dove c'è una spinta fortissima dei finanziatori privati sul mondo delle start up e dove ci sono dei gruppi di giovani che per periodi limitatissimi di tempo in sei mesi collaborano per sperimentare soluzioni sul campo portarle sul mercato vedere se il prototipo effettivamente trova riscontro se quell'idea che avevano avuto è effettivamente un'idea vincente o meno tutto questo mondo mi sembra un po' staccato in questo momento dal mondo sul quale stiamo ragionando noi dove guardiamo a una nuova capability tecnologica e a come questa si possa inserire all'interno delle infrastrutture esistenti allora proviamo a unire questi due mondi e questa è l'idea che a mio avviso potrebbe fornire qualche spunto di riflessione sulla prima call che è stata citata se ragioniamo sulla co-creazione del valore proviamo a uscire da questo mondo ristretto e a vedere in che modo le strutture sanitarie possano plaggare servizi innovativi provenienti dal mondo delle start up possano magari andare anche a raccogliere quelle start up che non sono riusciti a decollare per qualche motivo mettendo in piedi un servizio che effettivamente diventa sostenibile sul mercato privato e cerchiamo di lavorare su quella interfaccia lì cerchiamo di guardare al mondo dell'innovazione digitale come un mondo che può arricchire il mondo dei servizi sanitari non necessariamente puntando a portarsi all'interno del fascicolo n funzionalità ma collegandole architetturalmente in qualche modo e quindi queste sono le considerazioni che a mio avviso possono fornire degli spunti di riflessione sul tema della co-creation sull'altra sull'altra call quella dell'ICT a mio avviso anche dal nonostante siano stati citati dei soggetti operanti anche qui a Bologna in Italia insomma che sono attivi nel campo della ricerca scientifica su nuovi algoritmi di visualizzazione nuove tecniche di visualizzazione nuovi algoritmi di mining eccetera a mio avviso questo contesto questo network se vogliamo valorizzare questo network l'accento sarebbe da spostare di più sull'ultima colonna di quel framework che ci ha mostrato Teresa e cioè sulla colonna in cui si ragiona sui servizi sui domini su un dominio applicativo che è quello dell'EELT nonostante la call non sia più sull'EELT il dominio dell'EELT è sicuramente rilevante e visto che abbiamo una varietà di contesti geografici culturali politici rappresentati all'interno di un potenziale consorzio io focalizzerei l'attenzione se volessimo partecipare a una call ICT sui big data sul tema dell'integrazione di strumenti anche open source anche lo stack di Hadoop e tutta quanta la tecnologia che oggi è disponibile per la data visualization la data analytics possiamo a mio avviso reperire le competenze per integrare una piattaforma tecnologica ma poi farei un po' in una proposta del genere mi focalizzerei sulla sperimentazione di servizi in contesti diversi per diciamo proporre un framework e testare sul campo un framework che si adatta facilmente alle necessità dei vari paesi un framework fatto di una componente tecnologica e soprattutto di un modello di governance perfetto grazie ricordo che nell'esperienza ieri mattina presentata da parte della provincia autonoma di Trento il punto di approdo futuro è quello virgolettato domani il medico non dovrebbe più prescrivere o solo prescrivere interventi diagnostici terapeutici ma prescrivere un utilizzo di particolari app personalizzate quindi ragionano già non nella direzione di acquisire contenuti di app per inserire nel fascicolo ma di fare del fascicolo uno strumento per aprirsi verso queste opportunità quindi ritorno il concetto e questo è importante perché Trento è già in fase sperimentativa quindi è già un passo avanti di rispettare il caso di rispettare non è un tipo di prequisito che hai bisogno per uscire la data, e ho cercato a relato con il uso di altre datasi che sono già disponibili, e ho pretty much trovato in la terza call. Quindi real-world data è quello che mi significa, e ho pensato a proposito delle progette partenze per questo, e che magari non è la più interessante riguardo in quanto riguarda la nostra infrastruttura, abbiamo, io credo, piuttosto interessanti ai partenari per questo tipo di attività. La Università dell'Hamburg, per esempio, ha avuto l'HIMS level 7, quindi la migliore di digitalizzazione, solo due clinici in Europa, e non nemmeno di più, quindi il livello di digitalizzazione in questo hospital è provento una delle migliore in Europa, e ora sono in contacto con il CIO di questo hospital, e sono ora, ovviamente, di più e più data, soprattutto medicare data, auto-intri data, so, all the different types, e stilte la capacità, personali capacità, tecnologiche capacità, però hanno la data, e stilte domando, cosa possiamo fare con la data, e ora abbiamo questo in place, due a high degree di digitalizzazione. So, I think this university hospital would be a quite good project partner, interested in collaborating. The second type of institution, or organisation, that I thought about was one of the largest insurance company in Germany. they are allowed to get the data, or open the data for research, but actually only in a way that you demand a certain data set. for example, for lung cancer, for a certain region, for a certain age, and then you will receive the data, which then you can use for research. What they have not, or what they are not allowed to do at the moment, or what they are not practiced to do, is that you gave, or used the data, and trying to find correlations that you haven't known about before. So that's some kind of new mode of using data for research, that they need to adopt as an organisation, but also on the legal perspective. And this is also very relevant when we talk about this real-world data in the hospital scenario, because normally hospitals are not allowed to use the data for research purposes, as far as the patient has not given consent to use the data for this purpose. So I think they will need to think about, also we had to talk about legal issues yesterday, how to change regulations, so that we are really able to use these real-world data sources that we have in place. But nevertheless, I also heard from one of the people from the board, from these insurance companies, that they are very interested in building up new capabilities and analysing this very large data set. They have about six million people that are insured in the company, and they have long data that is capable of showing trajectories for many months and years. So this was the first point about real-world data and possible project partners. The second point I'd like to make is regarding the first challenge. Yesterday I also mentioned that I see a real big challenge in the question of how we can integrate citizens and patients in being partners of innovation and giving us feedback in what we develop, so transferring agile development to settings where on the other side we have to deal with millions of people actually. And I see this as a challenge, as a methodological challenge, and also as a challenge for tools, which are the tools that we can, for example, embed in the solutions to really get instant feedback. I also talked about the experience from other industries, and what they do, for example, is they just try out. It's called A-B testing. You develop two different versions and you just let the data speak and see which one is used by the patients or the customers or used better or more than the other version. That takes, of course, a little bit more of effort because you need to develop two or even several versions, but after that you can let the data speak. So I think this would be an interesting topic related to the first project proposal to answer the question of how policymakers, when they seek to develop digital services, need to think about the methodological side of integrating such a high number of people that are affected or should use the services. Yes, these were the two points I'd like to make. Thank you. Thank you. Thank you. Un ottimo spunto di concreto pragmatismo tedesco, direi. E' entrato in medias res, come si vuol dire, già formulando delle ipotesi di costruzione di collaborazioni con soggetti individuati, come particolarmente i donna nello scopo. questo è una buona cosa così come ormai sono diventato il presentatore delle meravigliose sorte progressive della provincia autonoma in Trento, ma non c'è alcun dubbio che credo unici nel nostro paese i trentini abbiano sviluppato proprio quell'azione di consultazione del gradimento nei confronti dei cittadini e dei cittadini fruitori del fascicolo sia in fase di costruzione di lancio sia in fase successiva di valutazione del risultato che per l'appunto potrebbe essere replicato su dimensioni più ampie. Teresa volevi aggiungere una cosa? Prego. Can you hear me? Ok. Just a clarification on the third call I've selected. Indeed, we haven't got a call test yet. So, this was just an invitation to monitor this kind of call because I think that in the next future it will be issued. So, we didn't have a call test and so we didn't have all expected impact or challenges of the call. So, I think it's important to monitor this program which is the big data for better outcome and, of course, we will keep in touch I hope each other with future news with news about this call in order to understand if we have the skills and competence to prepare a proposal on that. Ok? Bene. Aspetta che faccio una ricognizione, Roberto. mi pare a questo punto ci sia un solo intervento poi chiuderemo questa seconda sessione di dibattito e arriveremo rapidamente poi alla conclusione anche delle due giornate. Prego, Roberto. due cose al volo. C'è un'assicurazione già attiva in Sudafrica, Nuova Zelanda, Australia e ora anche nel Regno Unito non è... Pronto? Ecco. C'è un'assicurazione attiva in Sudafrica, Australia, Nuova Zelanda e ora anche nel Regno Unito che già fa un uso per la medicina reattiva se tu mi dici quante volte vai in palestra mi dai accesso alla tua carta della palestra io ti faccio uno sconto se tu mi dici mi dai accesso alla tua carta quando vai a comprare al supermercato vedo quanta frutta e verdura o quanta carne tu consumi e a seconda del ratio tra le due ti faccio uno sconto se tu mi dici quanto consumi di benzina io so che tu fai una vita molto sedentaria ti faccio un po' meno sconto se tu mi dici mi dai accesso al tuo contapassi lo sconto diventa più alto. C'è già funzione però è tutta dedicata alla medicina reattiva. Noi abbiamo già dei magnifici dati sul fascicolo sanitario basterebbe che il fascicolo sanitario fosse in grado di dire al medico Roberto Raggi è diabetico magari chiamalo quattro volte all'anno a farsi da te la glicemia può essere che sta meglio visto che ci sono delle linee guida del WHO che indicano che quattro volte all'anno sono più che sufficienti per tenere un questo ci arriviamo da qui a qualche mese in Emilia perfetto perché quello io intendo cioè questo è pareto voglio dire l'ottanta per cento dei costi in sanità sono quattro patologie croniche gestibili tutto qui grazie grazie grazie